Ciao a tutti, siamo alla Rambla di Barcellona, sta piovendo, tanto, tanto, andiamo allo Starbucks, andiamo allo Starbucks, l'iPhone non si bagna, è protetto, io ti dico che c'era, lui è qui per caso, ci siamo incontrati fortunatamente, un gruppo di cuore, come si dice, un gruppo di randello, di randello, di randello, forse si rompe l'iPhone, è un zarco proprio, è un zarco proprio, però io voglio fare una parodia, aspettate, è il mio sogno, vuole fare una parodia, ah ecco, finalmente ero Starbucks, perché non si parlo, non si parla, non si parla, non si parla, non si parla.